Amici oggi parleremo dell'analfabetismo funzionale e vedremo come e perché sono una piaga sociale. L'analfabetismo funzionale, o il letteratismo, è l'incapacità di usare efficacemente le abilità di lettura, scrittura e calcolo nelle situazioni della vita quotidiana. Si traduce quindi nell'incapacità di comprendere, saper valutare e usare le informazioni incontrabili nella società attuale. Di fatto si traduce nell'incapacità di valutare se una notizia è vera o falsa. L'UNESCO definisce l'analfabetismo funzionale come La condizione di una persona incapace di comprendere, valutare, usare e farsi coinvolgere da testi scritti per intervenire attivamente nella società, per raggiungere i propri obiettivi e per sviluppare le proprie conoscenze e potenzialità. L'alfabetizzazione funzionale o anche letteratismo, è un concetto che rappresenta il livello più elevato di alfabetizzazione più orientato alla pratica. Per esempio nel lavoro, e all'uso continuativo dell'abilità di lettura e scrittura. L'alfabetizzazione è basilarmente intesa come l'acquisizione di abilità cognitive divisibile in competenze, applicazioni, apprendimento e capacità d'analisi. Allora vediamo quali sono le caratteristiche dell'analfabeta funzionale, mentre una persona completamente analfabeta non è in grado di leggere o scrivere. Una persona funzionalmente analfabeta ha una padronanza di una base dell'alfabetizzazione, può leggere e scrivere, esprimersi con un grado variabile di correttezza grammaticale e di stile, e svolgere semplici calcoli aritmetici. E riesce a comprendere il significato delle singole parole, ma non riesce comunque a raggiungere un livello adeguato di comprensione e di analisi e da ricollegare contenuti nel quadro di un discorso complesso. Per esempio la comprensione di fenomeni complessi come, l'economia, fenomeni sociali come la corruzione, l'immigrazione, l'analfabeta funzionale si distingue per le seguenti caratteristiche. Incapacità di comprendere adeguatamente testi o materiali informativi pensati per essere compresi dalla persona comune, articoli di giornale, contratti legalmente vincolanti, regolamenti, bollette, corrispondenza bancaria, orari di mezzi pubblici. Scarsa abilità nell'eseguire anche semplici calcoli matematici, ad esempio riguardanti la contabilità personale o il tasso di sconto su un bene in vendita. Scarsa competenze nell'utilizzo degli strumenti informatici, sistemi operativi, uso della rete, software di videoscrittura, fogli di calcolo, ecc. Conoscenza dei fenomeni scientifici, politici, storici, sociali ed economici molto superficiale è legata prevalentemente alle esperienze personali o a quelle delle persone vicine. Tendenza a generalizzare a partire da singoli episodi non rappresentativi, largo uso di stereotipi e pregiudizi. Scarso senso critico, tendenza a credere ciecamente alle informazioni ricevute, incapacità di distinguere notizie false dalle vere e di distinguere fonti attendibili e inattendibili.